Ciao a tutti, siamo Dixon e senza falco e... Non è vero, io dico Ehm, vai oggi Ehm, infatti il falco che non c'è Siamo Dixon e senza falco Ma in ero acrobato E Dixon e manca la parte di sotto Mi è finita da posti di culo Dai ci manco Mi non gioco Hai tagliato la parte di sotto Ma l'ho fatto anche nel video di prima Non fa niente, culo Dobbiamo fare una speedrun perché continua Premi due, ti aggiungi Premi due Dix Voi non vedete la parte di sotto perché... Dix plus Esatto Se c'è un problema è sempre Dix plus Cioè noi stiamo giocando da lì e iniziamo a vedere bene Salvatore Quindi... Per ora lasciamo così poi in caso mani nel prossimo episodio togliamo Dix Ah, adesso falco fatto tardi e quindi si deve muovere Abbiamo avuto non pochi problemi nella registrazione di questi due Ah, ah E questo livello abbiamo fatto veloce come abbiamo detto perché falco sta facendo... Velocemente c'è il dopo... Dix fa le plus Dix metti il plus No, ma ne sto facendo lì Di stella posso andare a me Di stella posso andare a me Io mi casano di... Ma ma... Ma sono falco Mero io e Luigi Giac... Ah... C'è il Mega Pullo Fai stona la bandina di netto Donna mia Dix ce lo diffondo Ah... Ah... Futa Adesso c'è il Mega Pullo Non rompere il tubo però Mega Pullo Nooo Ti sei... Nooo La festa Non distrutta il coso Non rompete il tubo c'è il tubo Non andate avanti Tu god Non so... Sense kick Voglio prendere Dix grande Do... Vedete andiamo? Ohhhh il cubo del cubo Vediamo... Oh vedete... Oh Dix Vedete Dix Noo Cannelloni I cannelloni Dix perché hai schiettato nel nubile? Aspettate Ok Di sotto alle LB Sì Il risotto con le erbette E le puzze Dix C'è il risotto Dix è Ohhhh sei un risotto C'è un ragazzo di peppa Dix Donno Donno Falco non ti si vede il culo Eh perché è coperto dal pantalone e dalla mutanda Potrebbe essere anche il culo Sei scolorato Sclefò 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 Alla sclefata Un tubo Un tubo Ma nel livello passato Sono morto Eeeh Dix è fatto Guarda in cuba Ho fatto il pezzo Non lo dobbiamo prendere Dix Quello del sfalco Per compagno Abbiamo No Dix e vai Ti avevo E' fatto E' fatto E' fatto E' fatto E' fatto E' fatto Levatevi Levatevi Ma in capo Due kappe Due kappe Una k Una k Una k Nooo Dovevi morire col mio stile E' la maglia dei led Le zi Non schiantiamo tutti col fungo grande Non so che tutto moriamo come fa Vai direttamente Vai direttamente a destra Dix ma sei idiota Ma Voglio prendere l'altro fungo grande Io Vai fallo Eh Vai fallo Se stonna non mi spingessi Ma io sono Oh Guarda che io sono vizio E' fallo Se eviti di buttarmi giù Ho visto che sei tu per me Dix 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 usa la tuba Ma no Ho visto stonna Ma hai più usato E' premuto culo Sicuramente mi richiameranno Sų Quinturali non sapete ma dix è fatto che non lo so Prendete le pezzi Ne prendi Solo Dix non lo esata Eh E' poi prende Dix il tutto Eh Tutto Tutto Aspite Invece il canale Io ora corro da Dix Perché Dix Fuzzo Gli argomentazionari possono essere mosse contro Dix sono molto pari Prendete il Dix Ma vaffanculo! Ehi! Dix! Tosta stun! Tosta stun! Tosta stun! Dallao! Vai vado a prenderlo io quello Dovete andare in Dix FUZZA! 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 DUCK! I peggiovi! Fai la puzza! La puzza! No! Come avete fatto il Dix? Speed run! Speed! Culo! Fai adesso Non te neanche andiamo a prendere la puzza Culo Io sono saltato per evitare la pianta Cioè il penne di Dix Ma come è una pianta? Io non pure No è una pianta Ehm... La pianta Ehm... Ehm... La pianta Ehm... Ehm... La pianta delle pazze Ehm... E la setuaglia del Dix E' una pianta che cresce dall'alto Ah salutate Dix Ehm... 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 Come... Ah... Ehm... Non generate un mondo in Minecraft con Dix Se non mi lagga Mi avviso perchè ci sta Già lei le piace a Marco Già mi... Già mi... Già mi ha fatto Già mi ha fatto il video con me Se Dix diventa grande Ehm... Ehm... Appende con il trampolino Sei appeso Con il trampolino Ah Dix No Dix Fermo Furlo caldo il passimo la stella alex xx il seguito subito a te a dix quanti vai dix indietro avanti moviti non non ho mai 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 mi ha mai mai la mia ok perchè si copre l'aila è difficile una volta tazzo mai entrate sali salite entrate uno no no prendi falco buttatemi basta che siamo arrivati e per questo video tutto falco scende perché dove c'è il team di scuole dal pollice non così così dovevo dire che faccia la tv c'è la pianta no spazio se non si fa soltanto di l'antidipa e vince di x stavo per dire falco però non te l'aspettavo il culo no abbiamo finito completamente come si sblocca il dix c'è un'intralcia quindi ciao a tutta dix ah sotto c'è un avataggio in corso perché abbiamo tagliato la parte di tutto perché abbiamo dei scemi ciao 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 salutà interrompe il video